con quale coraggio il ministro della salute speranza parla di fratture sociali proprio lui che attraverso chiusure insensate e l'obbligo del green passa messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini il 25 settembre, scegliendo Fratelli d'Italia, avremo l'occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che ha solo danneggiato la nostra nazione lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, postando le dichiarazioni del ministro Speranza che ha detto che questa destra è un pericolo per l'Italia le politiche che metterebbero in campo aumenterebbero le fratture sociali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.